Io sono Stefania Carini, sono una scrittrice e una giornalista. Io sono Pietro Belfiore, uno dei supercomponenti del terzo segretto di Satira. Sono Nicola Cerioni, stylist responsabile di X-Factor 12 e di Sciuca Queen Studio. Abbiamo raccontato qui a IF la complessità del rapporto fra sentimenti e creatività. Io scrivo e ho raccontato l'amore e come dall'amore cerco di ironizzare sulle canzoni e sui media. Invece Pietro dal cinema. Più o meno, sì insomma, il cinema adesso col primo film sono tutti emocristiani. Invece Nicolò. Io un po' dal punto di vista appunto mio e del mio socio, mentre facciamo i video con Sugarcane di Giovanotti, abbiamo lavorato in passato anche con la Pausini e poi nel lavoro che sto facendo di styling su X-Factor 12. In realtà quello che è venuto fuori è che tutti noi abbiamo dei sentimenti da cui partiamo, l'ansia soprattutto. Il fastidio. Sì, il contrasto, insomma tutti i sentimenti in realtà positivissimi. Vabbè, l'amore, io ero partita dall'amore ma lo sapevo che alla fine non andava a finire bene. Grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti.